musica 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 e facendo il video? eccoci qua ragazzi abbiamo appena avviato la modalità d'oro nella isola di zombie della isola zombie la sediamo cos'è? mmmm che bella che bella mi sta lagando come sempre non so cazzo nooo perchè mi devi lagare ragazzi ero non so hai si cosa che bella Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.